Ciao a tutti, sono Karna e questo è il mio canale! Oggi è un video super speciale perché nel video di oggi vi voglio mostrare ciò che io e di Fiora l'altro giorno abbiamo realizzato per Fashion 2 Boutique che è una boutique che si trova qui a Rivoli, in provincia di Torina, dedicata agli animali, ai cuccioli e ai cagnolini è venuto un video di presentazione, secondo noi bellissimo merito, in primis della boutique che è meravigliosa ma questo potrete vederlo da soli perché appunto senza perderci in troppe chiacchiere vi lascerei al video che abbiamo realizzato scrivetemi sotto nei commenti tutto quello che pensate perché sono super curiosa appunto dei vostri commenti e giù nell'info box vi lascio tutti i link di riferimento della boutique che così se siete curiosi potete andare a darci un'occhiata quindi 3, 2, 1, buona visione! Ciao, io sono Karna e oggi ho deciso di portarvi nel magico mondo dei cagnolini, Fashion Dog Boutique Arrivare qui è stato veramente semplice, ho percorso l'area pedonale di Via Piol fino a Piazzetta Garibaldi per chi arriva in macchina c'è anche un parcheggio riservato adesso seguitemi ed entriamo sarete subito accolti da dei cuccioli di Chihuahua che potete coccolare e addirittura sceglierne uno da portare a casa tutti i cuccioli provengono dall'allevamento italiano, sono vaccinati, microcippati, profumatissimi, viziatissimi e già educati dalle zie quindi sporcano già nelle traversine se avete già un cagnolino invece potete trovare qui una vasta scelta di abbigliamento ed accessori per ogni tipo di razza come cucce, guinzagli, profumi, salviette, snack naturali, vestitini Fashion Dog Boutique ha creato anche una sua linea di abbigliamento super fashion prodotta interamente in Italia sono sicura che vi innamorerete L'amore e la passione per i cagnolini si nota anche in un'area della boutique dedicata al benessere e alla tua lettatura professionale di tutte le razze fino ad 80 kg è veramente qualcosa di unico del suo genere quindi non solo Chihuahua ma anche Maltesi, Golden, Bulldog, proprio tutti, anche gatti Il centro è una spa autorizzata e si effettuano anche bagni medicati e pulizia di denti ad ultrasuoni tutto questo a prezzi contenuti qui davvero avete la possibilità di affidarvi a mani esperte come quelle di Zia Daniela professionista con 18 anni di esperienza che si prenderà cura dei vostri amici a quattro a zampe nel miglior modo possibile Adesso non mi resta che presentarvi le persone grazie a cui tutto questo è possibile infatti in primis vi voglio presentare la Zia Cristina Ciao Carla, ciao a tutti, grazie per esserci venute a trovare ma lo sai che noi qui ci chiamiamo tutte Zie infatti vi presento la Zia Lorena che è un ruolo importantissimo nella nostra boutique Ciao a tutti c'è anche la Zia Ilaria che fa parte della nostra famiglia da poco tempo Ciao a tutti mi raccomando vi aspettiamo numerosi e ricordatevi, love and passion for dogs Ciao Ciao